quest'anno per la festa di primavera il lupo vuole preparare una torta di mele ma in cucina è un disastro così per nel bosco a cercare qualcuno che lo aiuti e chi incontra tre piccoli porcedini cappuccetto rosso una strega quante avventure deve affrontare per preparare la deliziosa torta di zia rosetta